Giovani, emozionate, belle, molto determinate. Si sono presentate così le 16 concorrenti della selezione provinciale di Villimpenta di Miss Mondo Italia. La manifestazione nazionale con Finana Gallipoli ha avuto il suo passaggio nel comune mantovano in occasione delle iniziative dell'antica fiera che sta facendo numeri importanti in questi giorni. Per l'occasione le ragazze hanno rappresentato tutte le nostre zone provenienti da Villimpenta stessa, Quistello, Carbonara, Viadana e Mantua. Insieme a loro hanno partecipato anche ispiranti modelli da Brescia, Lunato, Modena, Vicenza e Verona. Delle nuove fasce consegnate da più importante è andata la giovane Nicole Manzato di Villa Franca che approderà quindi la finale regionale che si svolgerà sul lago di Garda. Le ragazze si sono alla fine divertite, alcune fortunate forse avranno un seguito mentre per le altre non scorderanno mai di essere state Miss almeno una volta nella loro vita.